10 rimedi contro i gas intestinali I gas intestinali sono un disturbo tanto comune quanto fastidioso. Poiché i gas rimangono intrappolate allinterno del colon, solitamente producono gonfiore addominale e dolori. Molti studi rivelano che la formazione dei gas intestinali è dovuta principalmente a cattive abitudini alimentari che determinano la presenza nellorganismo di un eccesso di aria per niente salutare. Corretta digestione. Le principali cause dei gas intestinali. Il consumo di determinati alimenti come, per esempio, i fagioli, nelle diverse varietà, i broccoli, i cavoletti di Bruxelles, il cavolfiore, il cavolo, la cipolla o le bevande gassate. Una possibile intolleranza al lattosio. . Mangiare troppo, facendo in modo che il cibo non ancora digerito si trasformi in gas. Una scorretta masticazione degli alimenti, i pezzi di cibo non digeriti impiegano più tempo a fermentare. . Mangiare con la bocca aperta, masticare troppe che vinguma, bere bevande gassate e anche fumare. Alcuni farmaci, lassativi, tranquillanti o farmaci per la riduzione del colesterolo. L'ansia e lo stress. Dieci rimedi contro i gas intestinali. . Il consumo di questa frutta fresca dopo ogni pasto mette a disposizione una serie di enzimi essenziali per la corretta digestione e per evitare la formazione di gas intestinali. Potete preparare un succo oppure un'insalata saporita combinando la papaya e l'ananas. . Zenzero, l'ideale è, semplicemente, preparare un tè allo zenzero utilizzando la radice oppure assumerlo in piccole quantità sotto forma di radice durante i pasti. . . Senza ombra di dubbio lo zenzero è un grande alleato che favorisce la digestione ed evita i fastidiosi gas intestinali. Un'altra possibilità è quella di consumare un cucchiaino di zenzero grattugiato prima di ogni pasto. . . Aceto di mele, si tratta di un rimedio estremamente efficace, consigliato anche dai medici. È sufficiente aggiungere due cucchiai di aceto di mele ad un bicchiere d'acqua e berlo durante i pasti oppure immediatamente dopo. . Vi aiuterà a digerire e ad evitare la flatulenza. . . Dente di leone, il dente di leone è un'erba comune e a portata di tutti, le cui foglie hanno dei benefici incredibili per la salute. Potete assumerlo attraverso degli infusi oppure usarlo come spezia per insaporire i vostri piatti. . 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